Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Sebbene Francesco Totti e Ilari Blasi sembrano aver ritrovato una certa serenità sentimentale con nuovi partner dopo la loro separazione, recenti sviluppi potrebbero riaccendere vecchie tensioni. In particolare, Ilari potrebbe sentirsi ferita emotivamente da una recente decisione del suo ex marito. I due, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, hanno annunciato la loro separazione nel luglio 2022, suscitando grande interesse mediatico. Ora, Ilari è legata a Bastian Müller, mentre Totti ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi, già prima della conclusione ufficiale del matrimonio. Secondo il settimanale Diva e Donna, ci sono voci che Noemi potrebbe essere incinta. Alcuni indizi a sostegno di questa ipotesi includono foto in cui Noemi si accarezza il ventre e il ritorno anticipato di Totti dal Messico, dove era impegnato in un torneo di calcio. Mentre la disputa legale tra Totti e Blasi prosegue, si parla anche di possibili nuovi matrimoni. Sembra che entrambi potrebbero essere pronti a sposarsi con i rispettivi partner una volta finalizzato il divorzio. Di recente, Ilari ha presentato una richiesta per un divorzio rapido, che le permetterebbe di risposarsi con Bastian entro l'autunno.